Ciao a tutti amici di ItalianFishyTV, sono qui con Sara di Fishing Evolution a presentarvi il combo tutta pesca. Andiamo a vedere da cosa è composto. Partiamo subito dalla nostra canna, la TTF, abbreviazione di tuttofare. Questa canna è una canna con il quale è possibile realizzare tantissimi tipi di pesca dalla bolognese all'inglese al feeder alla bombarda. È lunga 4 metri e 20, lancia da 20 a 60 grammi, il manico è foderato in zucchero naturale e gli anelli sono in silver titan. Il mulinello è un modello linea F Sunshine, ha una bobina in alluminio, una bobina di ricambio in grafite e 8 cuscinetti a sfera. Per caricare il mulinello il nostro nylon, anzi il nostro fluorine, 250 metri di Evo Challenger colore verde acqua, quindi neutro rivestito in foro carbon anti abrasione. E per vedere meglio i pesci sott'acqua anche un paio di occhiali linea F con lenti polarizzate da pesca naturalmente. Anche per questo combo una sacca portacanne adatta alla TTF con mulinello da 150 centimetri, sempre marchiata linea F con tasca laterale e tessuto lavabile. In questo combo abbiamo pensato veramente a tutto, o meglio non deve mancarvi nulla, c'è una cassetta, una valigetta da pesca con tutti gli accessori che servono per pescare, per iniziare e per proseguire. Quindi galleggianti, piombi, moschettoni, girelle, polistirolo, starlight, tutto quello che vedete in questa valigetta. Combo tutta pesca, canna, mulinello, fodero, cassetta, avete tutto? Non sapete come affrontare la pesca? Nessuna paura, eccolo qua. Abbiamo il DVD realizzato con il mister Massimo Ardenti che parla dell'ABC della bolognese ed inglese, due delle grandi tecniche utilizzabili con la nostra TTF 4,20. Ricapitoliamo. Canna TTF Fishing Evolution 4,20 metri con azione 20-60 grammi in carbonio intrecciato. Il mulinello linea F modello Sunshine con due bobine di cui una in alluminio, una in grafite e ben otto cuscinetti a sfera. Il nostro nylon Evo Challenger da 250 metri, quello rivestito in fluorocarbon anti abrasione, la sacca porta canne con pancia porta molinello, tasca laterale e tessuto lavabile, l'occhiale polarizzato per vedere meglio i pesci, il DVD per imparare le due tecniche importanti, quindi la bolognese e l'inglese, ABC della bolognese inglese e la valigetta con tutti gli accessori che servono per iniziare e proseguire. Tutto il combo ha un valore commerciale di 219 euro, potrete acquistarlo al prezzo speciale di 149 euro solo nello shop online di Italian Fishing TV, quindi avete capito bene, 149 euro. Inoltre due regali, la nostra t-shirt Fishing Evolution con stampa silver ed il cappellino ricamato di Italian Fishing TV. 149 euro, il prezzo unico esclusivo scontato per acquistarlo sullo shop online di Italian Fishing TV, ma mi raccomando sbrigatevi, i combo saranno disponibili a questo prezzo fino ad esaurimento scorte.